Ben ritrovati a Ragusa Channel, in questo video vedrete l'esibizione di Lorenzo Licita, il vincitore dell'undicesima edizione di X-Factor, che farà i suoi saluti alla sua città natale, Ragusa. Quindi vi auguro una buona visione e ci vediamo al prossimo video. A presto! 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 Sì, voleva, 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 voleva. Sì, voleva. Sì, voleva, 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 voleva. Sì, 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 voleva. Grazie a tutti